Ciao bambini, siete pronti per l'appello? Io ho abbastanza, mi sono preparata, ho usato tanta fantasia, tutta quella che ho trovato, per pensare un modo per farvi venire nella mia casa, sentirli più vicini possibili. Abbiamo messo su ogni pupazzo che è qua dietro di me intorno a me il vostro contrassegno, così ogni pupazzo vi rappresenta. Alcuni sono proprio simili al vostro contrassegno, altri non ce l'abbiamo fatta, non avevamo pupazzi per tutti i contrassegni. Dico abbiamo perché i miei bimbi mi hanno aiutato tanto. Allora, facciamolo così, quando io dico il vostro nome, voi potete dire presente, ci sono, oppure alzare la mano, oppure a provarci. Va bene, io non vi sento e non vi vedo, ma mentre voi lo fate, io farò una carezza al vostro pupazzo. Spero che la carezza arrivi fino a voi. Adesso mettetevi comodi e partiamo per l'appello. Alessi, Edoardo, Bosco, Giulia, Chiaberto, Davide, Colonna, Elisa, Desario, Stella, Dino, Ameli, Dino, Evelyn, Truetta, Camilla, Falcone, Marco, Femia, Kevin, Gabello, Leonardo, Giaconella, Alessia, Michelis, Mattia, Miccoli, Marco, Oitana, Virginia, Peiretti, Andrea, Peretti, 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 Leonardo, Pizio, Sofia, Salva, Natalia, Speciale, Sara, Valienti, Sofia, Vernacchio, Beatrice. Mancano ancora le maestre. Allora, maestra Piera, Chiara, maestra Alessia, maestra Elisa, e qua ho ancora due pupazzi che rappresentano le vostre mamme, i vostri papà, i vostri fratellini che saluto tutti e faccio due belle carezze. Un bacio aereo che vola da tutti voi. Ciao, alla prossima volta!